Benvenuti in questo nuovissimo video di Kingdom Come Deliverance Spero che voi siate entusiasti quanto me per questa grandissima novità e io non vedo l'ora di continuare, quindi vanno alle ciance e andiamo da nostro padre Ok, come devo fare? Ok, questa è la visuale Perfetto È un po' scomodino eh ragazzi, andiamo da papà La bussola guida è il tuo cammino, sì lo so Ecco papà Ecco fatto Ok, ha bisogno di finire la spada per Serrati che fino a qua ci siamo Ecco fatto, dobbiamo andare a parlare con Kunesh per farci dare i soldi che deve a suo padre per poter comprare il carbone che gli serve per finire il lavoro E fidatevi ragazzi se vi dico che questo sarà un problema Sì, giusto i chiodi dove non batte il sole Ovviamente mi devo fermare anche alla taverna perché lui se non beve non è lui Ecco Ecco Ok È scoperto Mola, è scoperto a prezzi, abbiamo un po' di cose da fare Registro missioni, eccolo qua Allora Giocatore per sviluppare le nostre abilità Missioni Quindi dobbiamo andare a prendere il sacco di carbone, ritirare la guardia del castello Compra la birra alla taverna Ok Perfetto Andiamo Mi devo un attimo orizzontare nella mappa, eh ragazzi Alve Posso andare? No No Oh ci prendono anche in giro va bene ok perfetto ciao abitante del villaggio sei tu? eccolo kunesh ecco già cominciamo male non sei molto amichevole ok andiamo un po ragazzi dovrei provare a scegliere l'approccio in base all'interlocutore non sarà semplice ok ok vediamo se riusciamo oh dio santo ci mancava allora no vabbè ragazzi devo ingaggiarlo già un po' a grazie faccio abbastanza schifo ragazzi bene mi tocca tornare a casa e non è andata proprio come pensavo ma porca miseria ragazzi ecco meno male che casa è vicina mi devo far rimettere in sesto ok dov'è mamma mamma da papà non ci vado proprio perché mi hanno pestato un po' andiamo da mamma andiamo da mamma dove è mamma sei in casa vedo mamma sì andiamo un po' ecco ecco prendiamo queste mele eh andava meglio prima fidati andava meglio prima siamo pronti e io attesto aspetta certo c'è praticamente nulla visto che non ho fatto neanche il tutorial ancora è no 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.